Partenza per Milano, ho fatto l'apparamento, ho partito un evento, smart engagement, sto aspettando Narcisio, il mio soldi che mi ha messo. Recuperato Narcisio, eccolo qui, ecco, e ora andiamo a prendere il trenino per Milano. Milano, stazione di Milano, siamo arrivati, siamo arrivati e ora procediamo. Un'opportunità molto forte di trenino, quindi, dopo che ho detto tutto è stato stupato, il call center morirà, sì, morirà sicuramente nella forza. E' arrivata ad essere in contatto con noi, mi spiego meglio, sempre a Lettico e in e-commerce forum hanno riportato... Adesso Snapchat real engagement, eccetera eccetera, come non fare lo Snapchat quando si parla di Snapchat? Io ti vedo sempre su Facebook, nel tempo di Fosquare, eccetera eccetera. Poi, nel confezionamento della campagna di crowdfunding, una delle cose fondamentali è lo storytelling. Ho finito la giornata con il mountain engagement, come ti è sembrato Narciso? Interessante, veramente interessante. Siamo fatti anche quattro risalti. Sì, scape e cogliamo, sì, verso la stazione e intanto ragioniamo su tutto quello che abbiamo incamerato. Sono arrivato al Dux per fare una feritiva, sto cercando la Francesca, ma nulla trovo. Eccola, questo è il responsabile della bontà della catena Ops, eccola qua. E' un attimo ancora. Dopo l'aperitivo, a cena all'Officina del Gusto, ottimo posto, vicino Signia, poi vi raccontiamo meglio. Grazie a tutti, allora.